Carlotta Togliacarri, Liguria Box 4, Lugod 1, Skyler, Dottor Aspys Sky Madwall 6 kg Fai prima la piastrella, una piastrella 50 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 2,50, 25, 2,75 Questa sotto me l'appoggi lì Intanto ci arriva questo insieme in cazzo Ce l'ha fiduta proprio Ok, questo possiamo buttarlo dove capita Se mi tiri il metro qua Ok, box 50 Perfetto, grazie mille Questa è veramente benissimo Ma una perci CAMPA Ma una altra cosa Guarda trocu sundi Olli che eravano Cattolità Cattolità Trazione Ho Cororo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.